Una mostra dedicata al cinema nel Delta del Po, come mai, come nasce questa cosa? Nasce da un progetto dalla Fondazione della Cassa dei Pami di Padovero Vigo che alterna le mostre d'arte a mostre dedicate al territorio. Non tutti sanno che il rapporto fra il cinema italiano e il Polesine è un rapporto che dura da più di 80 anni, molto intensissimo, che ha dato vita a un numero incredibile di film, più di 80 film di finzione a soggetto, decine e decine di documentari, di cortometraggi, di cinegiornali, decine di programmi televisivi. Quindi una storia iniziata sostanzialmente alla fine degli anni 30, che continua tutt'oggi, perché ancora oggi ci sono cineastri che vengono a girare in Polesine, attratti e affascinati da un territorio unico nel suo genere, con caratteristiche davvero irripetibili, anche un po' fuori dal tempo, che forse è ancora oggi uno dei motivi del suo fascino, ma con una fortissima identità che non si ritrova altrove, insomma. Ecco, lei precedentemente ha detto che ha visto molti film sul Polesine, ma è la prima volta che venne a visitarlo davvero. Cosa le ha lasciato questa terra? Beh, ho capito per quali motivi i cineasti erano così affascinati da questo territorio. Intanto venire in Polesine vuol dire fare un viaggio nel tempo, a ritroso nel tempo, è un paese fuori del tempo, rimasto sostanzialmente incontaminato, nonostante, al di fuori dei processi di destoralizzazione del paese, che hanno contaminato i territori, li hanno cementificati, ne hanno alterato il DNA in qualche modo. Qui invece no. L'impressione è di ritrovare qualcosa che è rimasto identico a se stesso, fortemente legato a una propria identità storica, culturale, antropologica direi, e che è quella sulla quale forse si può costruire anche l'ipotesi di un futuro migliore, visto che c'è qualche problema, i giovani se ne vanno perché non trovano lavoro, eccetera. Ma siccome è un territorio con grandissime potenzialità, io credo che a partire dalla valorizzazione di questa identità si possa davvero costruire un futuro migliore per il Polesine. Ecco, in questa mostra c'è un percorso, quindi ci sono varie epoche, vari film. Ci sono alcuni titoli, secondo lei, più rappresentativi di altri? Beh, ci sono alcuni capolavori assoluti della storia del cinema italiano che sono stati realizzati in Polesine, da Ossessione di Lucchino Visconti ai film di Antonioni, Gente del Po, il suo primo documentario d'esordio, poi Il Grido, poi Deserto Rosso, poi i film di Rossellini, L'ultimo episodio di Paesà, che è un capolavoro assoluto, Il Murino del Po di Lattua, dei film di Puviavati, La casa delle finestre che ridono, Il testimone dello sposo, Evito mi sognare, eccetera. I film di Carlo Mazzacurati, che ha trovato nel Polesio una sorta di luogo dell'anima per ambientare quattro dei suoi film più belli, più personali, più originali. Insomma, mi dimentico sicuramente tanti film, perché sono così numerosi, così belli, così diversi di uni dagli altri, che insomma la storia, come dire, l'approccio alla conoscenza del Polesio attraverso questi film è anche una storia di ricchezza, di diversità, di fascino perpetuo che oggi mi fa sentire in qualche modo legato al Polesio che una volta non conoscevo. Ecco, in questa terra si sente un po' la differenza, comunque Il Delta del Po è diviso tra provincia di Rovigo e provincia di Ferrara. Il cinema riporta queste differenze o riesce a superare le differenze? No, il cinema lo supera ampiamente, nel senso che la maggior parte di questi film sono in realtà ambientati nel delta, in parte quello ferraresi, in parte quello polesano, perché poi è un territorio unico, con le stesse caratteristiche, gli stessi paesaggi, la stessa dimensione legata allo scorrere del fiume. Insomma, quindi in realtà i cineasti non hanno mai fatto questa distinzione che è una distinzione geografica e politica che in realtà non ha molto senso. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie a lei.